Benvenuti su Calcio360, il posto giusto per chi ama il calcio. Triste addio poco fa che ha turbato tutti gli appassionati e gli amanti del calcio. Il mondo del calcio è in lacrime. Prima di iniziare, vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Il mondo del calcio è entrato nel vivo di questa stagione ricca di eventi e colpi di scena. I tifosi aspettano con ansia che le loro squadre raggiungano i propri obiettivi. Il calcio è molto più di un semplice sport. Per molti è una parte essenziale della vita quotidiana. I tifosi si affezionano non solo alla loro squadra, ma anche a giocatori che suscitano emozioni forti. In caso di addio di un protagonista del calcio, specialmente se è una figura importante, i tifosi provano un senso di tristezza e smarrimento. Questo è il caso di un nome eccellente che potrebbe presto ritirarsi. Enzo Zidane, figlio di Zinedine Zidane, sta considerando di lasciare il calcio. Suo padre è una leggenda, ma la carriera di Enzo non ha raggiunto le aspettative. Enzo è stato chiamato così in onore di Enzo Francescoli, un grande centrocampista uruguayano. Nato nel 1995, ha cercato di seguire le orme del padre e del suo omonimo, ma con meno successo. La carriera di Enzo Zidane sembrava promettente, con un inizio al Real Madrid. Tuttavia, non ha mai raggiunto il successo sperato, giocando in diverse squadre senza grandi soddisfazioni. Dopo esperienze in club come Alaves e Losanna, Enzo ha continuato a cambiare squadra, senza mai trovare una stabile consacrazione. L'ultima esperienza è stata con il Fuenlabrada due stagioni FA. Dal 2023, Enzo è fermo senza una squadra che voglia investire su di lui. Secondo As, sta valutando il ritiro per dedicarsi ad altre attività, chiudendo una carriera mai decollata. La decisione di Enzo Zidane di ritirarsi a soli 29 anni è un colpo di scena che lascia i tifosi con un senso di perdita, ricordando una promessa mai completamente realizzata. Se volete condividere la vostra opinione su questo triste addio, fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi, ma di grande importanza per noi. Grazie, amanti del calcio.